Ciao ragazzi, bentrovati su Crystal Cross Gaming, un piccolissimo vlog veramente molto molto veloce da inserire all'interno della serie di World of Warcraft, lo troverete nella playlist e quindi se state seguendo tutta la serie a un certo punto ci incapperete, per darvi un aggiornamento sulla serie che sta andando avanti già da un pochettino, stiamo quasi per arrivare alla puntata numero 100. Voglio dire ed è già stato un lungo cammino, sono molto contento della serie, sono molto contento che vi piaccia, quindi tutto benissimo e non è un aggiornamento brutto. È soltanto per dirvi che a che punto siamo della serie, abbiamo superato il livello massimo, cioè il 120 già da un bel po', stiamo facendo i contenuti della storyline di Battle for Azeroth e stiamo cominciando a fare un po' di dungeon e non manca molto che cominceremo a fare i primi ride e cose del genere. Ora, all'interno di questo cammino può verificarsi qualche momento in cui semplicemente può essere necessario che io debba farmare un po', ok? E non è molto bello da vedere in serie, perciò penso che siano dei contenuti che sia meglio lasciare soltanto su Twitch, ovvero se in live passiamo un pochettino di tempo a farmare e mentre chiacchieriamo, rispondiamo a delle domande, discutiamo di qualcosa, eccetera, sono dei momenti che vanno benissimo in live, ma all'interno di una serie di YouTube non penso che sia opportuno. D'accordo? Quindi, da questo momento in poi, potreste non vedere integralmente tutta quanta la live, come puntate, cioè divise in puntate, qui sul primo canale YouTube, ma potreste trovare dei, tra virgolette, tagli. Mettiamo caso che, per continuare con la storyline, io debba fare un ride che richiede, insomma, di essere vestito in un certo modo, un item level più alto di quello che ho e devo stare a farmare un po' di dungeon prima, un po' di world quest, insomma, quello che deve essere, quindi passare un po' di ore di gioco a fare dei determinati contenuti, e beh, allora, forse, non è esattamente la cosa più figa da vedere, me che giro per la mappa o me che faccio sempre gli stessi dungeon a rotazione, bla bla bla, perciò, non è ancora questo momento, devo dirvi, ancora per un po' probabilmente troverete tre puntate in fila al giorno, belle, insomma, belle toste, ok? Ma nel futuro è possibile che a volte le puntate diminuiscano, perché magari di tutta una live c'è una parte che non va presa, oppure magari che sia soltanto una piccola parte di una live che va presa perché quel contenuto riguarda, che ne so, di dungeon che non avevamo ancora fatto o che non avevamo fatto a quel livello, oppure dei contenuti che non avevamo ancora visto, ma magari il resto della live ho farmato cose, ho fatto delle cose magari meno interessanti, d'accordo? Perciò, col passare del tempo, la serie qui su YouTube di World of Warcraft verrà un pochettino depurata da contenuti non molto interessanti che funzionano in live, perché si sta insieme, si passa il tempo, si discute, ma nella serie di World of Warcraft non funzionerebbero tanto per dei video visti dopo, d'accordo? Era questo, sostanzialmente, quello che volevo dirvi, perciò sappiate che, non da subito, ma in un futuro, credo, non troppo remoto, potreste cominciare a vedere una diminuzione delle puntate della serie di World of Warcraft, semplicemente perché ci vuole tempo a farmare, a fare delle altre cose e non penso sia il caso di mostrarvelo in live, d'accordo? Verranno delle cose un pochettino più selezionate, ovviamente quando facciamo cose nuove o dei momenti anche particolari che non riguardano proprio la storyline, però sono fighi da vedere, allora questi li vedrete, ovviamente ragazzi, quindi chi è su YouTube non si perde niente in realtà, si perde il farming, si perde un po' di momenti morti, d'accordo? Questo era per spiegarvi, perché credo che fosse necessario dirvi questa cosa, un video di veramente pochissimi minuti, ma ci tenevo a farlo e a inserirlo proprio in playlist nella serie di World of Warcraft per spiegarvi un pochettino meglio queste cose, non è neanche un video montato, è molto grezzo e feroce, però insomma sostanzialmente è questo, d'accordo ragazzi? Come sempre io vi ringrazio moltissimo del supporto, vi ringrazio di aver visto questo video, vi ringrazio di stare seguendo la serie di World of Warcraft, sappiate che continuerà assolutamente, ma magari sarà un pochettino più rifinita, ok? Nel futuro. D'accordo, questo è tutto ragazzi, come sempre seguite il canale, iscrivetevi, lasciate un like, seguitemi su Twitch perché lì ovviamente stiamo facendo le live di World of Warcraft, dato che ci siete seguite anche il secondo canale in cui ci sono tante serie di tanti altri giochi e la serie di Hearthstone, effettivamente che stiamo sempre facendo su Twitch in orari diversi, e niente ragazzi, grazie mille del supporto, grazie mille di aver visto questo video, in descrizione come sempre trovate tutti i link ai miei social, tutti i link per supportare il canale, il link alla playlist con tutti i video della serie di World of Warcraft, se volete iniziare a recuperarla, non la state ancora guardando, e anche il link come al solito per supportarmi, ovvero se volete acquistare Battle for Azeroth e il tempo di gioco, l'abbonamento, la card di World of Warcraft per l'abbonamento mensile su Instant Gaming tramite questo link in cui è scontato, beh sappiate che supportate e aiutate moltissimo il canale. D'accordo ragazzi? A presto!